Gli audio racconti, serie Solar Pons, Il Narciso Nero, di August Derlet, letto da Adami. Si dice comunemente che la realtà superi la fantasia. Per convalidare questa affermazione, io non conosco esempio più valido delle vicende inerenti al caso che, nei miei appunti, ho intitolato Il Narciso Nero. La soluzione richiede ben poche di quelle peculiari deduzioni che erano proprietà riservata di Solar Pons, il che sta a dire che la scoperta dell'assassino fu, in sé per sé, un problema relativamente facile. Ma l'indizio rivelatore era così strano, così fuori dal comune, che il mio amico ne rimase immediatamente colpito. Alle cinque e mezzo di un piovoso pomeriggio di maggio, Jackson Daming, di professione agente di cambio, venne trovato assassinato nel suo ufficio in Paternoster Row. Pons e io, non avendo di meglio da fare, quel giorno avevamo occupato il nostro tempo leggendo e scrivendo. La mia clientela era piuttosto esigua allora, pertanto la mia attività professionale e di medico condotto era limitata. Venimmo a conoscenza dell'accaduto leggendo il News of the World, che esce alle sette della sera. Il giornale pubblicava due piccole fotografie, una ritraeva la scena del delitto e l'altra la vittima, quando ancora era in vita. Fra le due fotografie spiccava un annuncio, ricercato per omicidio. Cercasi giovanotto di statura media, metri 1,70 circa, capelli neri, occhi scuri, probabilmente castani, folti baffi neri, labbra sottili e di taglio deciso, braccia lunghe. Quando è stato visto per l'ultima volta, indossava un impermeabile grigio e calzava scarpe numero 7. L'annuncio risultava diramato dalla centrale di polizia e firmato da Seymour R. Jameson, l'ispettore di Scotland Yard, incaricato delle indagini riguardanti il delitto. Jameson era uno dei più cavillosi ammiratori di Pons, al quale, comunque, sottoponeva spesso i suoi problemi e le sue difficoltà. Ricordo che Pons, dopo essersi limitato a qualche commento superficiale, mise da parte il giornale. Fuori pioveva e il crepuscolo era immerso nel silenzio, come sempre accadeva in Pryde Street al cadere della sera. Nel nostro studio penetrava soltanto il lontano, sordo brontolio della stazione metropolitana di Paddington. Non era trascorsa neanche mezz'ora quando udimmo una brusca scampanellata. Prima ancora che uno di noi facesse in tempo a muoversi per andare ad aprire, uno scalpiccio precipitoso rimbombò sulle scale. Pons era in piedi vicino alla finestra, scostò la tendina per guardar fuori. In strada, sotto la pioggia scrosciante, era fermo un tassì. Un istante dopo, la porta venne spalancata con violenza, e un giovanotto con gli occhi fuori dalla testa, il berretto calato basso sulla fronte, si catapultò nella stanza. «Chi di voi è Solar Pons?» domandò volgendo lo sguardo ansioso dall'uno all'altro. Pons lasciò la finestra e si avvicinò, identificandosi implicitamente. «Sono James T. Radford», disse il nostro visitatore, sovrapponendo le parole nella fretta di parlare, evidentemente mezzo morto di paura. «Ricercato per omicidio, a quanto mi risulta», disse Pons. «Sedetevi, prego, e cercate di calmarvi». Tolsi il berretto. Il giovanotto continuò a fissare Pons con uno sguardo commisto di timore e titubanza, quasi fosse indeciso se dar la volta e battene in ritirata, oppure se persistere nel suo primitivo proposito. Non accennò nemmeno a sedersi sulla seggiola indicatagli da Pons. Il mio amico, tuttavia, con rassicurante non curanza, continuò. «A parte i baffi che, piuttosto ingenuamente, avete eliminato, scorticandovi in ben tre punti, si è detto per inciso, i vostri connotati corrispondono a quelli della descrizione diramata da Jameson quanto quelli di almeno mille giovanotti, se non di più, che in questo momento circolano per le strade di Londra». Il nostro visitatore si lasciò cadere su una sedia e nascose il volto tra le mani. «Signor Pons, non sono stato io!» «Se foste colpevole, non credo che sareste venuto qui», disse Pons flematicamente. Rutherford rialzò la testa e fissò Pons. «Mi credete?» gridò, sbarrando gli occhi dallo stupore. «Ma allora non sapete! Tutte le prove sono contro di me, signor Pons, tutte, nessuna esclusa!» «Se ci raccontaste come sono andate le cose», suggerì il mio amico. «Signor Pons, io sono un uomo rovinato. Fino a ieri godevo di una modesta giatezza. Oggi non ho più un soldo. Ho perso tutto in borsa. Non è che io abbia l'abitudine di giocare in borsa, ma mi sono fidato di Deming. Lo conoscevo da tempo e non avevo motivo di mettere in dubbio la sua onestà». Scosse la testa e il suo volto, piuttosto bello, si oscurò di ira improvvisa. «Confesso di essere andato nel suo ufficio per ucciderlo ieri pomeriggio. E l'avrei fatto, se qualcuno non mi avesse preceduto!» «Caspita!» esclamò Pons, visibilmente sempre più interessato. «Cominciamo dal principio, signor Rutherford. Saranno state le quattro del pomeriggio, quando sono venuto a sapere che le azioni della miniera Claybar erano precipitate. Da principio non potevo crederci. Deming mi aveva assicurato che un rialzo era matematicamente certo. Poi, quando mi sono reso conto di essere sul lastrico, ho perso la testa. Ecco tutto. Quel che so è che, presa la rivoltella e infilato l'impermeabile, mi sono precipitato fuori senza neanche mettermi il cappello. Credo di aver fatto di corsa tutta la strada fino all'ufficio di Deming. Nel vestibolo a pian terreno non c'era nessuno e l'ascensore non funzionava, perciò ho infilato le scale. Eccettuata una vecchia, una donna delle pulizie, che ho incrociato sulla prima rampa, non ho visto nessun altro. Arrivato al terzo piano, temendo che potesse esservi qualcuno in anticamera, ho aperto piano piano la porta degli uffici di Deming. Assicuratemi che la stanza era deserta, sono entrato, dirigendomi verso la porta, che era spalancata, dello studio privato dell'agente di cambio. Fatti alcuni passi, ho potuto scorgere parte della scrivania e immediatamente mi sono trovato davanti agli occhi la testa di Deming, poggiata di lato sul ripiano, bocche e occhi spalancati. Sul momento non ho saputo cosa pensare. Ho esitato un attimo, poi, fattomi coraggio, sono andato avanti. Ero talmente in collera che non mi importava niente di cosa stesse facendo. Credo di aver pensato che Deming recitasse una commedia per giocarmi, ma una volta arrivato sulla soglia dello studio, ho potuto vedere la scena al completo. Deming era morto, pugnalato alla schiena. E allora, signor Ponce, allora ho capito che ero miracolosamente sfuggito al pericolo di compiere io stesso quel gesto irreparabile. Voltate le spalle, sono tornato sui miei passi. Nel vestibolo a pian terreno c'era un ragazzo, un giornalaio, entrato per mettersi al riparo dalla pioggia. Credo che mi sia venuto incontro per offrirmi un giornale, ma io, dopo averlo scansato, mi sono precipitato in strada. Alle sette ho visto che il News of the World era uscito con la descrizione dei miei connotati. Comprendendo in che razza di guaio mi ero cacciato, mi sono tagliato i baffi e sono corso qui da voi. Ovviamente è stato il giornalaio a fornire a Jameson la vostra descrizione. Osservatore quel ragazzo. E le impronte delle vostre scarpe saranno state rilevate sulle scale. Prove indiziarie che Jameson potrà esibire a vostro carico. Inoltre, avevate un movente grave. Avete agito d'impulso. Avevate l'intenzione di commettere il delitto. Eh sì, vi siete messo in una situazione difficile, ma non disperata. Che cosa devo fare, signor Ponce? Visto che senza dubbio vi stanno ricercando accanitamente per tutta Londra, vi consiglio di restare qui. Il dottor Parker e io faremo un salto fino all'ufficio di Deming per vedere come stanno le cose. Ponce sostituì la giacca da camera con una giacchetta leggera e infilò l'impermeabile. Mentre mi aspettava sulla porta, si voltò verso il nostro cliente, ancora molto sconvolto, e, per rassicurarlo, gli disse. «Se io fosse in voi, non mi preoccuperei eccessivamente, signor Radford. Vediamo prima che cosa sarà possibile fare. Nel frattempo, se avete voglia di leggere, lì ci sono dei libri. Percorremo Prade Street, dirigendoci verso la stazione della metropolitana di Paddington. La pioggia si era convertita in una densa foschia e ammantava ogni cosa. Ovunque si guardasse, pesanti goccioloni riflettevano debolmente le luci che, a malapena, riuscivano a forare l'oscurità. I rumori giungevano deformati e ovattati e di tanto in tanto si odorava un fugace profumo di fiori e di fogliame, come se un po' di aria campestre fosse riuscita a infilarsi nella città. Saliti sulla metropolitana a Paddington, scendemmo a Newgate e, a passo rapido, percorremmo a piedi il tratto fino a Paternoster Row. La nostra meta era un edificio di quattro piani di recente costruzione adibito ad uffici. L'agente di servizio nell'atrio era Maker, un giovanotto entrato da poco a far parte della polizia, ma, come Pons aveva già avuto occasione di notare, piuttosto perspicace, tenendo conto della sua limitata esperienza. ci salutò con un cortese e, buonasera, soggiungendo, ho l'ordine di non lasciare passare nessuno, ma ritengo che voi possiate salire. Di sopra c'è il coroner, insieme con l'ispettore Jameson. Pons si fermò per scrollare l'impermeabile e grondante acqua e per accendere la pipa. Senza dubbio avrete già arrestato l'assassino. Ho letto sul news la descrizione dei suoi connotati diramata da Jameson e non ho mancato di notare quanto fosse precisa. Sono già trenta i sospetti che abbiamo fermato, rispose Maker in tono avvilito. Il mio amico accennò un sorrisetto, che aumenteranno di altri duecento da qui a mezzanotte. Oh, no, di certo, signor Pons, se controllano la misura delle scarpe. Il numero sette non è poi così comune. Infatti, ma nella maggior parte dei casi questo controllo non viene fatto lì per lì e gli altri connotati sono di una banalità da far spavento. Salendo le scale, notammo che alcune sezioni degli scalini erano bloccate, laddove certamente erano state rilevate le impronte. Jameson è coscienzioso, disse Pons. Jameson, un uomo franco, cordiale, dai corti baffetti, camminava su e giù per l'anticamera quando noi entrammo. Il coroner era ancora nell'ufficio interno, invece, benché fosse evidente che aveva già terminato il suo compito. Pons, esclamò l'ispettore, come mai da queste parti? Temo che questa faccenda non offra niente di interessante. Vendetta di un cliente truffato, ecco tutto. Lo beccheremo in poche ore. In bocca al lupo, Jameson. Non vi sembra però che la descrizione diffusa per mezzo della stampa sia, come dire, un tantino generica? Niente affatto. Presa nell'insieme non è affatto generica, no signore. Beh, una divergenza di opinioni rende la cosa più interessante, non è vero, Jameson? Immagino che vorrete vedere il cadavere, scantonò l'ispettore un po' piccato. Proprio a questo pensavo. Mentre il coroner ne usciva, Jameson ci fece strada nell'ufficio interno. Il morto giaceva nella posizione descrittaci da Radford. Dalla schiena sporgeva il manico di un comune coltello da cucina, la cui lama affondava completamente nel corpo. Pons fece un giro tutto attorno al cadavere, poi si fermò a osservarlo. Era chiaro che la coltellata era stata inferta con molta forza e io pensai a Radford, cui non doveva far difetto certo la vigoria necessaria per far vibrare l'arma con tanta energia. Non mi è chiaro chi abbia scoperto il cadavere, disse Pons. La donna delle pulizie. Secondo il coroner, a che ora pressa poco è avvenuto il delitto? Alle cinque o giù di lì. E dov'era quell'ora la domestica? Jameson ebbe un gesto di impazienza. Era di sopra, stava facendo le pulizie negli uffici al piano superiore e se pensate che abbia qualcosa a che fare con il delitto, disilludetevi, ha un ottimo alibi. La segretaria di Deming è uscita alle quattro e mezzo e a pian terreno ha incontrato la donna delle pulizie che arrivava in quel momento e stava per salire di sopra. Sono rimaste a chiacchierare fino alle cinque meno un quarto, poi la segretaria è uscita e la donna è salita. Afferma di aver visto attraverso la porta semi aperta Deming che stava lavorando e che, fra parentesi, costituisce un alibi eccellente per la segretaria. Un certo Wilkins, un rappresentante che si era attardato nel suo ufficio al piano superiore, giura che l'inserviente è arrivata verso le cinque meno un quarto, che ha fatto le pulizie negli uffici e poi nel corridoio. Wilkins dice che l'ha avuto sott'occhi mentre puliva il corridoio e le scale fino alle cinque e venti. Sempre continuando il suo lavoro, la donna è poi scesa a questo piano. Quando verso le cinque e mezzo è entrata qui dentro, ha trovato Deming come lo vedete ora. Wilkins era ancora in ufficio per sbrigare del lavoro arretrato e non appena si è reso conto del perché la domestica si era messa a urlare, ci ha telefonato. Pur ascoltando senza far commenti l'esposizione dei fatti, Pons non aveva cessato di guardarsi attorno. Dopo aver esaminato a suo piacimento il cadavere, passava in rivista gli oggetti sparpagliati sulla scrivania, libri, carte, un sottomano, tutti gli ammenicoli insomma che ci si aspetta di trovare sul ripiano di uno scrittoio. Quello che restava inesplicabile era la presenza di un oggetto piuttosto strano poggiato dietro in un canto della scrivania. Pons si sporse in avanti per prenderlo. Era un narciso nero ancora alquanto fresco e che emanava un sottile profumo. Dove era questo quando venne scoperto il cadavere? Vicino alla testa. Qui? Pons collocò il fiore parallelamente alla testa del morto e si tirò indietro. Jameson pensò un momento poi a noi. Sì, pressappoco così, un po' più vicino alla testa, forse. Allora è stato spostato. Da chi? Dal coroner, credo. Interessante. Voi che cosa ne pensate? Jameson fu preso la sprovvista. Io? Niente, proprio niente. Restò un attimo in forse, poi guardò di nuovo il fiore. Comunque, se lo ritenete importante, mi fareste un vero piacere dicendomi il perché. Beh, vi rendete conto che il narciso è un fiore raro e costoso e che, in un certo senso, non si inquadra in una situazione come questa. Non vi capiterà di sicuro tutti i giorni di trovare dei narcisi neri accanto ai vostri cadaveri, vero, Jameson? Questo deve costare all'incirca una sterlina e mezzo. Jameson grugni irritato. Oh, che sciocchezze, Pons. Daiming era così ricco da potersene comprare un vagone di quei cosi. Perché non avrebbe dovuto portarsene uno in ufficio? Già, ma allora perché non l'ha messo in un vaso oppure all'occhiello? No, penso che non funzioni, Jameson. Guardate, è ancora freschissimo. In realtà, questo narciso ha lasciato il negozio del fioraio non prima delle quattro del pomeriggio. Ed è finito su questo tavolo verso le cinque, macchiando, come avrete notato, il sottomano. Gocce di pioggia, direi. Quello che voi volete dire è che deve essere stato l'assassino a portarlo qui? Non vi sembra che sia così? Perché non telefonate alla segretaria di Daiming per chiedere se è stato il suo principale a portare il fiore rientrando in ufficio dopo essere stato a pranzo? Chiedetele se il narciso era già qui quando lei è andata via. Scommetto che affermerà di non sapere un bel niente riguardo a questo strano fiore. Sconcertato, Jameson guardò Pons, lasciando chiaramente intendere, dall'espressione del suo volto franco, che non capiva dove mio amico volesse arrivare. Nel suo atteggiamento, però, non mancava una sfumatura di battagliera aggressività. Si girò proprio mentre entrava Maker, che era stato sostituito da un collega al pian terreno. Ordinò al poliziotto di telefonare alla segretaria, che era stata invitata a tenersi a disposizione nel suo domicilio, in attesa dei risultati delle indagini preliminari. Avvicinatosi di nuovo al morto, Pons si chinò per esaminare da vicino il manico del coltello, guardandolo bene da tutti i lati. Suppongo che abbiate notato che sul manico c'è un'iscrizione impressa a fuoco, disse sovrappensiero. Sì, dalla tua Emily. E questo non vi suggerisce che Deming conoscesse qualcuno che si chiama Emily? Oh, può darsi, ma non vorrete insinuare che l'assassino abbia lasciato il suo biglietto da visita. Pons sorrise acidamente. Che bisogno avrei avuto di insinuare una cosa che è tanto evidente? Ve l'ho semplicemente fatta notare. State a sentire, Pons, il coltello. Non sto parlando del coltello, lo interruppe Pons, ma del narciso nero. Oh, ancora con quel fiore. Jameson sbuffò. In quell'istante Maker si affacciò sulla soglia. La segretaria dice che a Deming i fiori non piacevano e che quando lei nel pomeriggio è andata via non venerano in nessuna delle due stanze. Ve lo dico e ve lo ripeto, Jameson, non potete persistere nel trascurare il significato del narciso nero. Vi consiglio fermamente di preoccuparvi di scoprire che cosa stia a dire quel fiore. Richiamo la vostra attenzione principalmente sulle collezioni dei giornali che potrebbero mettervi sulla buona strada per chiarire il rapporto fra Deming e il narciso. Al che Jameson diede la stura a un fiume di rimostranze sostenendo che dal momento che la polizia stava già dando la caccia all'assassino non vedeva proprio la necessità di occuparsi di fatti marginali o comunque non comprovatamente legati al caso. Pons senza prestargli molta attenzione passò nell'anticamera si sedette al tavolo della segretaria e prese carta e matita. Jameson ormai ammutolito lo guardava scrivere mordendosi le grosse labbra tanto era irritato. Quando Pons dopo aver scritto velocemente per qualche minuto alzò la testa l'ispettore sbottò se sapete qualche cosa che io ignoro mi pare che sarebbe quanto meno doveroso mettermi a corrente. Giustissimo anzitutto il giovanotto che state cercando non ha commesso il delitto. Ormai ho fatto un po' l'abitudine ai vostri metodi Pons ma adesso non vi seguo. Tanto per cominciare consideriamo le orme. Per bagnate che fossero le scarpe dubito che possiate rintracciare le impronte. Se doveste per avventura riuscirci credo scoprireste che esse non vanno oltre la soglia dell'ufficio interno. Può darsi che si possa prenderne un calco e in questo caso vi consiglio di cercare in qualsiasi punto del pavimento oltre la soglia dell'ufficio di daming le impronte di scarpe numero 7 trovandole esse confermerebbero la vostra ipotesi visto che il coltello non può essere stato scagliato dalla porta. Maker ha rilevato le impronte sulle scale dopo la deposizione del giornalaio ma su cosa basate la vostra tesi? Confesso che io non vedo niente che la giustifichi è ovvio mi baso su quanto mi ha detto il giovanotto che state ricercando Jameson rimase di stucco e lo diede chiaramente a vedere e il fatto stesso che si sia rivolto a me per essere aiutato prova che è innocente altrimenti se ne sarebbe guardato bene sempre da lui ho saputo che entrando nell'edificio ha incrociato sulla soglia una donna che egli ha preso per un addetto alle pulizie una vecchia col capo coperto da uno scialle abbiamo la sua descrizione ah sì e chi era Jameson si strinse nelle spalle non lo sappiamo bene allora ve lo dirò io era l'assassina di Deming oh assurdo calma calma Jameson voi agite in base alla teoria che il giovanotto sia l'autore del delitto io parto dalla premessa che non lo sia stando così le cose non ci rimane che un altro indizio la vecchia per quanto possa apparire inammissibile impossibile io credo che in definitiva vi accorgerete che è questa l'unica soluzione che quadri e per arrivare a questo ho preparato due inserzioni che sarebbe bene far pubblicare su tutti i giornali di domani mi sono permesso di farne una a vostro nome Parker e l'altra a nome vostro Jameson consegnò all'ispettore le due inserzioni che aveva appena stilate io le lessi riprotendendomi al di sopra delle robuste spalle di Jameson oggetti trovati un coltello da cucina del tipo comunemente usato per trinciare la carne sul manico vicino alla lama porta incisa a fuoco la dicitura dalla tua Emily il proprietario è pregato di rivolgersi al dottor Lyndon Parker parade street numero 7 appartamento 2b la seconda inserzione era più concisa il fioraio che ieri nel periodo di tempo compreso fra l'ora di apertura e le cinque pomeridiane ha venduto un unico narciso nero a una signora con uno scialle in testa è pregato di mettersi immediatamente in comunicazione con l'ispettore Jameson presso la centrale di polizia perplesso Jameson sollevò lo sguardo dai fogli continuate a impuntarvi su quel narciso nero Pons sono convinto che racchiuda la chiave del nostro rebus Pons sorrise spero che vi occuperete di far pubblicare sui giornali queste inserzioni e in caso incaricherete maker di controllare se vi sono impronte di scarpe numero 7 nell'ufficio interno gradirei molto di essere messo al corrente del risultato dopo aver ricevuto una risposta alle inserzioni benissimo non mancherò Pons accostò un fiammifero alla pipa che nel frattempo si era spenta credo che non possiamo fare altro per ora andiamo Parker rientrando a casa trovammo Radford spossato dall'angoscia e dall'ansia Pons dopo essersi alleggerito di qualche acido commentò sul complesso di colpa di chi si sente assassino in potenza per poi sbarazzarsi del giovanotto dicendogli di tenersi pronto a deporre tutta la verità su quella parte della vicenda che lo riguardava personalmente dopo che Radford se ne fu andato per tornare a casa sua Pons passò un bel po' di tempo sfogliando il voluminoso indice da lui stesso compilato della collezione di album in cui erano raccolti migliaia e migliaia di ritagli di giornali riferiti sia a frodi assassini furti e altri crimini io ero letto da un pezzo e lui era ancora al lavoro il mattino dopo Pons sfogliò i giornali cercando le inserzioni da lui stesso compilate le trovò subito e notò anche che era sparito il trafiletto con la descrizione del ricercato per omicidio e ne attribuì l'iniziativa a Jameson in quanto a noi ci preparamo ad attendere una risposta all'inserzione destinata al proprietario del coltello sebbene Pons non fosse affatto sicuro che una risposta ci sarebbe stata era possibile infatti che la persona a cui apparteneva il coltello non si fosse nemmeno accorta di non averlo più o cosa ancora più probabile che questa stessa persona fosse proprio l'assassino poco dopo l'una Jameson fece la sua comparsa e allora Jameson domandò Pons fissando l'ispettore attraverso la fitta cortina di fumo che stagnava nello studio l'espressione sul volto di Jameson già di per sé la diceva lunga avevate ragione Pons disse l'ispettore sedendosi Mekker è riuscito a rintracciare le impronte di scarpe numero 7 giungono soltanto fino alla soglia nell'ufficio interno abbiamo trovato impronte di scarpe numero 9 e numero 10 ma non altro nonostante un lavoro che ci ha impegnato per buona parte della notte il cattivo tempo ci ha facilitato il rilievo anche se le orme ormai erano asciutte Pons assentì brevemente quello che mi interessa è l'inserzione ha dato qualche risultato un fioraio di Cipside ha telefonato a mezzogiorno per comunicarci di aver venduto un narciso nero a una donna che corrispondeva alla vostra descrizione prezzo una sterlina il fiore è stato venduto ieri nel pomeriggio verso le 4 importantissimo esclamò il mio amico io non ne sono così certo Pons ammettendo che il giovanotto che stiamo ricercando non abbia commesso il delitto noi ci troviamo di fronte a questa eventualità una donna anziana una vecchia badate bene che ieri ha comprato un narciso nero per motivi che ancora non siamo riusciti ad accertare avrebbe assassinato Deming conficcandogli un comune coltello da cucina nella schiena con tanta forza da far penetrare la lama fino in fondo vi pare che stia in piedi io la vedo così voi non avete che da chiedervi quali particolari condizioni devono sussistere per rendere valida l'ipotesi chinandosi su una pila di giornali accattastati accanto alla poltrona dopo aver frugato nel mucchio ne tirò fuori uno e indicò una fotografia ad esempio non potrebbe essere questa la persona che ha compiuto il delitto jameson senza scomporsi fissò a lungo l'immagine e io feci altrettanto sul giornale di due giorni prima era riprodotta la fotografia di una vecchia sotto c'era il nome emily rizwell e sopra in grassetto evasa dal manicomio criminale di strathbone qualunque fosse la cosa che jameson avesse avuto in animo di dire ne fu impedito da una brusca scampanellata poco dopo mrs johnson introdusse una donna magra e sciatta che si fermò esitante sulla soglia avanti avanti buona donna disse pons incoraggiata da quelle parole la donna avanzò di tre passi giusto quel tanto da permettere che la porta si chiudesse alle sue spalle poi si fermò volgendo lo sguardo dall'uno all'altro cercate il dottor parker presumo continuò pons si signore disse la donna annuendo siete venuta per il vostro coltello proseguì il mio amico recitando la sua parte la donna annui nuovamente e allora pons andò a prendere nel suo laboratorio un esatto duplicato del coltello usato per uccidere daming senza dubbio egli lo aveva approntato durante la notte dopo che io ero andato a letto lo porse alla donna e rimase impaziente attesa mentre lei lo esaminava con cura e lo girava dalla parte in cui sul manico era impressa la dedica dalla tua Emily annuendo poi con aria soddisfatta anche se un po' preoccupata si è proprio il mio posso chiedervi come mai lo avete perduto mi è stato rubato ah si soltanto il coltello la nostra visitatrice par visitare per un istante beh signore credo che la stessa persona che ha portato via il coltello abbia preso anche le due sterline che aveva nascosto nella teiera un coltello e due sterline non è vero lo sguardo di Ponce si fece più severo deve essere stato qualcuno che conosceva bene la casa e che sapeva dove riponete il vostro denaro la donna sentì con una certa enfasi si signore è quello che ho pensato anch'io avevo una mezza idea che fosse stato Henry mio marito specie dopo che mi aveva telefonato che non veniva a pranzo a casa per via della pioggia poi la sera del giorno che mi hanno portato via i soldi che è poi stato ieri sono andata a trovare dei vicini e quando sono tornata a casa ho trovato nella teiera una mezza sterlina e allora mi sono convinta che non era stato Henry perché lui avrebbe preso tutto guardò il coltello e soggiunse in quanto al coltello non me la sarei presa tanto a cuore se non fosse un regalo di mia sorella Emily perciò ci sono affezionata come vi chiamate Klemmer sono la moglie di Henry Klemmer e vostra sorella come si chiama di cognome Rizwall si era sposata con un buon aniente che poi è sparito e allora lei è diventata pazza povera creatura tirò su col naso e aggiunse sono dieci anni che è in manicomio mi pare che sia dimostrato che il coltello vi appartiene signora Klemmer potete tenerlo grazie signore indietreggiò fino alla porta sempre con la sua aria circospetta buongiorno signore e se ne andò Jameson l'aveva seguita con lo sguardo gli occhi sbarrati dallo stupore l'ispettore si era finalmente persuaso che Pons era nel vero ma non aveva ancora capito quale fosse la spiegazione basilare del mistero che strana faccenda commentò Pons sedendosi con uno degli album della sua collezione sulle ginocchia scommetto che avete dedicato ben poco del vostro tempo al narciso nero Jameson se ne era incaricato maker beh c'è tutto qui parlando sfogliava le pagine dell'album infine trovò il ritaglio che cercava a quanto pare secondo il news of the world di circa dieci anni fa narciso nero era il nome di una miniera improduttiva daming ne lanciò le azioni sul mercato riuscendo così ad alleggerire gli ingenui investitori di un bel mucchietto di bigliettoni da mille quando l'impresa fallì nel 1918 fra gli azionisti che subirono le perdite più considerevoli c'erano Sir Evelyn Mansfield Selwyn Carrington Thomas Gambridge e James Rizwall Rizwall ci rimise tutti i suoi risparmi e lo stesso giorno si fece saltare le cervella notate l'analogia anche il vostro giovanotto si è trovato nella medesima situazione a proposito si chiama James Rutherford ed è pronto a prestare la sua deposizione non appena lo manderete a chiamare poco dopo la morte del marito la vedova di Rizwall sentendo parlare del narciso nero si infuriò tal punto che tentò di uccidere Deming riuscendo però soltanto a ferirlo di conseguenza venne internata nel manicomio di Strathbone ma l'idea ossessiva di vendicare il marito uccidendo Deming non l'abbandonò mai l'ossessione è sfociata in una crisi omicida e penso che adesso capirete Jameson il significato allusivo del fiore deposto sulla scrivania di Deming adesso è tutto chiaro signor Ponce o perlomeno ragionevolmente chiaro disse Jameson che appariva ancora un po' disorientato però l'assassina non l'abbiamo ancora arrestata Ponce si strinse nelle spalle dal punto di vista giuridico non è incriminabile credo che la troverete in qualche posto nelle vicinanze della casa dove abita la sorella alla quale dovrete pur chiedere una deposizione è là che la troverete Gli audio racconti serie Solar Ponce Il narciso nero di August Derland letto da Adame Grazie a tutti